E' molto bello essere qui, anche se per grande parte della scienza non avremmo dovuto esserci. In effetti, durante l'era glaciale avremmo dovuto trovare la nostra estinzione, invece mi pare, a giudicare dal numero delle persone che vedo, che non è andata così. Sono venuto a raccontarvi quella che io ritengo essere una bella storia, una storia di una specie magnifica, una specie che ha avuto tanta paura. Quindi vi parlerò della loro paura, che poi in effetti è anche la nostra paura. E poi vi parlerò della mente, la mente che in questo incessante tentativo di farci sopravvivere non esita ad imbrogliarci. Infine vi parlo del coraggio. Il coraggio è una cosa che abbiamo inventato per difenderci da noi stessi. Io ho paura. Come Homo sapiens ho tanta paura. Qualcuno mi ha chiesto, ma cos'è questa fissazione per la paura? Perché ti interessi così tanto alla paura? Io sono un formatore, un educatore. Ho lavorato per tanti anni con i gruppi e con le persone singole. E ho scoperto quanto la paura possa essere capace di bloccare tutte le nostre aspirazioni. La paura ha il sapore del metallo sulla lingua, ricorda un po' quello del sangue. Non so se avete presente. È qualcosa che veramente può disturbarci. La peggiore di tutte è la paura della paura. Funziona con i pregiudizi, preconcetti, le preoccupazioni. Pre, appunto. Prima che succedano. E fa venire fuori quelle vocine che sentiamo e che io in questo momento sento. Lascia perdere, vai via. Non è il caso. Ma sei sicuro che puoi? Hai abbastanza informazioni? Ma dai che non ti piace. Non è per te. Dai, ti guardano tutti. Ecco, questo è un meccanismo complesso e anche molto semplice. Il meccanismo funziona più o meno così. La nostra mente recepisce dei dati, degli stimoli dall'esterno. Immediatamente scatta un allarme e inonda il sangue con sostanze che ci fanno reagire. Le reazioni sono di tre tipo. La prima è scappare. La seconda è combattere. E la terza è bloccarsi. Ecco, devo dire che questa nostra mente lo fa per proteggerci, ha un grosso interesse a farci arrivare a fine della corsa, ma è anche un po' egoista, perché pensa a se stessa, pensa a proteggere se stessa, a consumare poche energie. Ha questo istinto di autoconservazione. E per fare questo non esita a mentirci. Ci manda delle immagini che non sono la realtà, non sono la verità. Per esempio, io cammino in un bosco, vedo un ramo dalla forma sinusidale a terra e immediatamente ecco l'immagine di un serpente. Mi proteggo. Ma non è la verità, è una bugia. In questo modo la nostra mente può trasformarsi in un'entità bloccante e in qualche modo diventa un pessimo padrone. Mi chiedo, e vi chiedo, se non vi è mai capitato di cercare di fare la scelta giusta, la cosa giusta, faccio la cosa giusta, ci penso, pensaci più volte, pensaci dieci secondi prima di agire. Ma cos'è la cosa giusta in assoluto? Ogni volta che scegliamo lasciamo da parte altre cose. Quanti di noi, a causa della paura, non portano sulle spalle qualche rimorso o qualche rimpianto? Bene, per capire come funziona tutto questo, mi sono permesso di tornare indietro nel tempo e vedere come l'evoluzione in qualche modo ha condizionato questa storia. Ricordate che il coraggio lo abbiamo inventato e lo abbiamo inventato proprio per difenderci dalla nostra paura. Parliamo del nostro antenato, l'Homo sapiens. Centomila anni fa vivevamo in un ambiente naturale abbastanza confortevole, un bel po' di risorse a disposizione, qualche predatore di troppo, ma comunque si viveva una vita decente. Poi improvvisamente dei cambiamenti climatici repentini, repentini si fa per dire perché si parla di ere, hanno trasformato il nostro ambiente naturale da così a così, la savana. E nella savana non ci sentivamo più tanto a nostro agio. C'erano molti predatori e l'Homo sapiens non voleva fare da pasto a leone e iene. Così, per qualche motivo inespiegabile, settantamila anni fa ha deciso di puntare verso Nord ed è partito. Un viaggio incredibile, un viaggio verso l'ignoto, verso l'incertezza, un viaggio di settantamila anni, pensate, diretto verso Nord, alla scoperta, affrontando l'ignoto. L'ignoto diventa un'opportunità. Con loro avevano tanta paura e qualche attrezzo utensile di selce. Niente più. In settantamila anni si imparano però tante cose. E l'Homo sapiens ha voluto sempre esplorare ed innovare. Esplorare ed innovare. Finché, alla fine, non ha trovato il continente europeo. E lì ha trovato una culla dove, in qualche modo, fermarsi. Ma sempre continuando ad esplorare e innovare. Poi, 40.000 anni fa, probabilmente durante una battuta di caccia, si imbatte nel suo cugino più sofisticato e anche più affascinante, l'Homo di Neandertal. L'Homo di Neandertal è forte, è veloce, è perfettamente adattato ai climi freddi. E' un predatore incredibilmente efficace. E i due, per un po' di tempo, condividono tante esperienze e probabilmente anche un po' di DNA. E cosa succede? Che adottano comportamenti completamente diversi. I tempi sono duri per tutti. Ma l'Homo sapiens decide di praticare il nomadismo. Non si ferma mai. Non si accontenta di quello che ha. Vuole vedere dietro le montagne, cerca la grande acqua, esplora. Il Neandertal vive in una piccola zona, la sfrutta al massimo e quando le risorse vengono a mancare, la abbandona. Sapiens osa unirsi ad altri individui esterni al gruppo familiare e quindi rischia anche un po'. Questo per scambiare conoscenze e crea le prime proto-tribù. Neandertal, invece, gruppo familiare, poche persone, pochi individui e ovviamente soffre dell'impoverimento del codice genetico e della mortalità femminile. Sapiens innova sempre, sembra incessantemente interessato a migliorare. I suoi utensili cambiano e diventano sempre più sofisticati. Anche le tecniche di caccia. Neandertal, invece, per migliaia di anni fa sempre le stesse cose. Infine Sapiens inventa il linguaggio, un codice sofisticato che serve a scambiarsi la conoscenza e i saperi. Neandertal non ha molto da condividere e quindi Sapiens sopravvive, Neandertal si estingue. Darwin, il nostro amato Darwin, aveva ragione. È la specie più capace di adattarsi al cambiamento a sopravvivere e sicuramente lo fa a spese di quella più forte. E così è stato dal punto di vista biologico, ma non solo, anche dal punto di vista dei comportamenti. I nostri progenitori hanno avuto il coraggio di adottare comportamenti sociali nuovi ed efficaci in un contesto di continuo cambiamento come quello dell'era glaciale. In ogni Homo Sapiens, proprio in tutti, esiste un'innata spinta ad osare per affrontare la paura. Noi siamo una specie che ha un'incredibile capacità di desiderare e questo ci espone all'incertezza. Dopodimè su questo palco sentirete storie incredibili, persone che si sono persi in oceano e in tempesta, altri che stanno immaginando addirittura un viaggio su Marte. persone che hanno sfidato malattie molto serie e inabilitanti e lo hanno fatto sempre senza cercare l'assoluta sicurezza, perché l'assoluta sicurezza impedisce il soddisfacimento delle nostre aspirazioni. E allora sono venuto qui a dirvi che nella mia esperienza professionale ho scoperto che la paura ha un'origine biologica. e sarà sempre con noi, non si può eliminare, non possiamo non avere paura. Il coraggio invece, il coraggio è un'altra cosa. Il coraggio è una competenza, il coraggio si impara, il coraggio si allena. Il coraggio è la quantità di incertezza con la quale siamo disposti a convivere. Se noi coglieremo questa opportunità riusciremo a crescere e fare del cambiamento una vera nuova chance. In questo modo mi potrò permettere di dire che la mia mente da pessimo padrone diventerà ottimo servitore. E allora, in questi tempi di incertezza, dove questo mondo sembra andare talmente veloce da non potergli stare dietro, tutto cambia e siamo un po' sopraffatti dagli eventi. In questi tempi credo che sia utile avere una donna e un uomo nuovo. Neo-Sapiens appunto, Neo-Sapiens, non più Homo-Sapiens. Non abbiamo più bisogno di altri muri, di filo spinato, di leggi che regolano tutto quello che ci circonda. Non abbiamo bisogno di unirci in altre tribù che combattono nuove tribù sotto simboli antichi. Sapiens sopravvive ad ogni simbolo e ad ogni ideologia. Non abbiamo bisogno di tante abilità e nuove tecnologie quanto di avere empatia ed esercitare comprensione. Ci serve umanità. E' tanta roba, ma tranquilli. Queste cose non dobbiamo farle da soli. Guardatevi intorno. Chi sono queste persone sedute vicino a voi? Chi c'è in questo teatro? Girate la testa, guardateli. Chi sono tutti questi? Perché sono venuti qui oggi? Perché avete scelto di dedicare questa giornata al TED? Con chi avete scelto di venire al TED? Questa è la nostra tribù. Questa è la tribù con cui dobbiamo imparare a riunirci di nuovo, ma veramente, come hanno fatto i nostri progenitori. E' importantissimo imparare, riimparare a comunicare con profondità e a condividere i nostri bisogni. E' importante essere generosi e condividere i nostri saperi. Mettere le competenze al servizio di una grande tribù. Ma soprattutto è importante avere il coraggio di cambiare tutto. Se riusciremo a cogliere questo insegnamento, se ci riusciremo, avremo un'opportunità. E per questo motivo io vi dico che la grande opportunità di crescere e di progredire per la razza umana passa attraverso la necessità di accertare l'incertezza. E in questo modo ci riusciremo, come 70.000 anni fa, come sempre. E allora vi chiedo, qual è la quantità di incertezza che siete disposti ad accettare oggi? Qual è la sfida che volete raccogliere oggi in questo teatro? Darwin aveva ragione, se non cambio mi estinguo. E questa qui è la chiave della nostra sopravvivenza. Grazie per aver ascoltato.